Shakira si sarebbe allontanata da Tom Cruise e lo avrebbe, implorato, di smettere di flirtare con lei. I due si erano incontrati durante il Gran Premio di Formula 1 di Miami e le fotografie che li ritraevano insieme avevano alimentato voci su una loro possibile frequentazione. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'attore sarebbe stato, assolutamente ipnotizzato, dalla popstar colombiana. Tuttavia, Shakira sembra essere concentrata solo sui suoi figli dopo la turbolenta rottura con Gerard Piquet, il padre dei suoi bambini, avvenuta quasi un anno fa. Fonti hanno riferito che Shakira avrebbe educatamente comunicato a Tom Cruise il suo disinteresse, mentre quest'ultimo avrebbe risposto inviandole dei fiori. La cantante trova le voci divertenti e non ha intenzione di intraprendere una relazione oltre un incontro amichevole. Recentemente, Shakira si è trasferita con i suoi figli a Miami, lasciandosi alle spalle Barcellona e la Spagna per iniziare una nuova vita da mamma single. La sua separazione da Piquet non è stata affatto pacifica, con problemi finanziari legati al passato, dispute sulla divisione del patrimonio e difficoltà nel trovare un accordo sulla custodia dei figli. Shakira ha trovato nella musica un modo per esprimere le sue emozioni, pubblicando canzoni che alludono alla sua rottura.